Il 24 agosto giovedì, buongiorno, benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione in regia, Giovanni Petrone. Prima edizione del Tg che apriamo con la cronaca, al momento nessuna traccia, le tremiti di un sub termolese di 54 anni, disperso da ieri pomeriggio, da quando insieme a un amico si è immerso in mare. Ore di angoscia a Termoli, dove nella serata di ieri la notizia si è sparsa rapidamente. Le speranze sono sempre più flebili. Cambiamo argomento, tornano le frecce tricolori su Campobasso, l'evento è in programma domani e rientra nelle celebrazioni per il centesimo anniversario della nascita dell'aeronautica militare. Il sorvolo sul Molise degli aerei è previsto intorno alle 15.30, ce ne parla in questo servizio Enzo Luongo. Le immagini che state vedendo si riferiscono proprio a quell'occasione, era il luglio del 2020. Tre anni dopo tornano a Campobasso le frecce tricolori. La pattuglia acrobatica, vanto dell'aeronautica militare nel mondo, aveva sorvolato i cieli del Molise in pieno lockdown a causa del Covid e proprio per alleviare il disagio degli italiani, in segno di solidarietà con la popolazione, le frecce avevano attraversato in lungo e largo lo stivale, toccando tutti i capoluoghi di regione. Un evento che ora si ripete in occasione del centesimo anniversario dell'aeronautica militare, celebrato dal corpo con il tour sull'Italia, dal titolo emblematico l'aeronautica militare ringrazia l'Italia. Con i mitici 10 aermacchi MB339 stanno effettuando in questi mesi un tour che prevede sorvoli sui capoluoghi di regione. L'appuntamento con Campobasso è arrivato. Domani nel primo pomeriggio verrà effettuato un passaggio sulla città, proprio come avvenne la mattina del primo luglio di tre anni fa. Gli aerei stavolta sorvoleranno prima a Bari, intorno alle 15, subito dopo Campobasso. L'orario previsto è le 15.30, ma potrebbe subire qualche piccola variazione di minuti. Sui cieli del Molise gli acrobati dell'aria si soffermeranno solo per qualche minuto. Le frecce sono l'unica formazione composta da 10 aerei, 9 in formazione e un solista. Lo show intero verrà proposto a Giovinazzo, in provincia di Bari, il 27 agosto. Una riga nera sulle attività del caffè Alzheimer. Il locale temporaneo concesso dal comune di Sernia in attesa di una sede definitiva. Tra qualche giorno infatti scadrà il contratto, ma nessuna novità sui tempi necessari all'adeguamento dell'ex quinto settore, dove nascerà il centro di urno. Ce ne parla in questo servizio Valeria Migliore. Sembra la storia infinita quella del centro Alzheimer di Sernia, perché ricomincia dall'inizio, ogni volta che il traguardo appare vicino. In un post su Facebook, Bruno Esposito, presidente dell'associazione Non ti scordar di me, ha annunciato la chiusura del caffè Alzheimer, il locale temporaneo di Via Umbria, concesso per qualche mese dal comune, al fine di consentire l'avvio delle attività ludico-terapeutiche in attesa di una sede definitiva. Ma pure per la sede definitiva, l'iter non è affatto lineare. Quando l'amministrazione comunale ha inaugurato il provvisorio caffè Alzheimer, si attendeva infatti la fine dei lavori a Palazzo de Bagis, dove entro la fine di giugno sarebbe dovuto nascere il centro di urno, salvo poi essere risultato privo della certificazione antisismica e dunque inidoneo. Un punto è a capo nella battaglia di Esposito, che da anni rivendica un riferimento per i malati della provincia e per le loro famiglie. Ma le speranze si sono poi riaccese quando il comune di Isernia ha individuato un'altra sede per il centro, l'ex quinto settore, in località Acqua Sulfurea. Tuttavia, tra una settimana, scadrà il contratto incomodato d'uso gratuito per i locali di Via Umbria, ma sulla realizzazione del centro di urno, alcuna novità. Stiamo lavorando all'adeguamento sociosanitario della struttura, ma, ha detto l'assessore alle politiche sociali, Leda Ruggero, non voglio promettere tempi certi, perché tutto dipende dalla trafila burocratica. Ruggero ha poi garantito un incontro con Esposito prima della fine del contratto per trovare, anche con l'associazione Una Luce sul Buio dell'Autismo, una possibile soluzione. Per la prima volta a Isernia, ha continuato l'assessore, qualcosa si muove e c'è interesse a soddisfare le legittime rivendicazioni dei malati. Ora, in attesa dell'apertura del centro di urno in località Acqua Sulfurea, la priorità di Esposito è che vengano garantiti almeno gli appuntamenti programmati al caffè Alzheimer per dare una speranza ai tanti malati che giorno dopo giorno si aggrappano ai ricordi del passato. Ed è tutto con la prima edizione del Tg, adesso uno sguardo ai quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal web, dal giornale del Molise, c'è la cronaca, sub termolese si immerge e non risale dalle acque delle tremiti, lo avete sentito anche nel nostro Tg. Poi le frecce tricolori, domani alle 15.30 il sorvolo su Campobasso, si parla anche del caldo e dell'afa fino a domenica, poi ci sarà il crollo termico. Per quanto riguarda la politica, Marone, raddoppio di Bifernina e Trignina sono gli obiettivi di legislatura. Passiamo su Molise Network, questa notizia, l'olio Evo Licinius di Venafro conquista la medaglia d'oro a Dubai. Da Molise Network a futuro Molise, pienone di pubblico e consensi per il 33esimo festival internazionale, lanza di Filignano, queste poi ci sono anche chiaramente altre notizie. Dal web passiamo alla carta stampata con primo piano, in evidenza la sanità, ospedali al collasso, l'allarme dei medici, siamo allo stremo. Gli specialisti dell'emergenza urgenza dicono se il governo non aumenta i fondi, scelga quali pronto soccorso chiudere, anche al Cardarelli è ormai un dramma quotidiano. Altra tegola intanto sull'Alto Molise, da ieri senza un pediatra, a rischio l'assistenza di 500 bambini. E intanto, se ne rubrica il punto, con la firma di Vittorio Sanese, si parla proprio di sanità, emergenza in sanità, non c'è tempo. Andiamo a vedere le altre notizie, restituiti i 20 milioni al conto sanità, la Regione ci ha pagato gli stipendi. Manca intanto il bilancio 2023, l'amministrazione raschia il fondo del barile. A fondo pagina, l'estate non è finita, parte il settembre, Isernino, sabato, Magna Storia, Alamega, Tavolata, invitato pure il Presidente della Regione, Roberti. Qualche altro richiamo? Siamo a centro pagina, il caldo africano ai giorni contati, domani ancora a Bollino Rosso, da Campobasso, utili della SEA, e tari alle stelle, si accende lo scontro politico. Le notizie sportive sotto la testata, un focus sul Campobasso, Aldo Vicenzo, Avicor, entusiasta del progetto, dice siamo qui per voi tifosi. Intanto allo stadio, per lo stadio sempre di Campobasso, parla l'assessore Praetano, a breve sarà intitolato a un grande personaggio, il rosso-blu. Fine in Vasto Girardi, undici reti nell'amichevole contro l'Agnone, tripletta di Caon. Andiamo a vedere i quotidiani nazionali, qui la notizia del giorno, si parla dell'aereo di Prigoshin, lo schianto, e questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Il generale nella lista dei passeggeri. La TV di Stato russa è morto, la Wagner ucciso dai traditori della patria. A bordo anche il suo vice, i Stati Uniti, nessuno dovrebbe essere sorpreso, i suoi soldati avvertono le conseguenze, saranno disastrose, qui in questa foto vedete le immagini dell'aereo di Prigoshin. Vediamo anche, parliamo anche di uno scontro politico, sbarchi, lite tra meloni e slain, polemica sui salvataggi delle ONG. Dal Corriere della Sera, adesso su Repubblica, analoga apertura, il quotidiano di Maurizio Molinari titola così la vendetta di Putin. Ecco i resti del jet caduto nella regione di Tver, in Russia. Poi ci si parla, c'è anche la foto di Prigoshin. Dunque, l'aereo era decollato da Mosca, la TV di Stato dice era sul volo ed è morto. A bordo anche il suo vice, Utkin. I suoi mercenari è stato abbattuto dai russi. Mistero intanto su un secondo aereo. Biden, nulla accade senza che Putin voglia. Intanto la Wagner, ucciso dai traditori della patria, ci saranno conseguenze disastrose. Di spalla, ci parla delle ONG, solidarietà ai migranti, aspro scontro tra Slain e Meloni. Passiamo al quotidiano cattolico avvenire. 18 mesi di sofferenza, e si parla della guerra in Ucraina. Il 24 febbraio dell'anno scorso cominciava l'invasione russa. Mosca bombarda ancora le città, strage di insegnanti in una scuola. Più in basso, da Amatrice a Ischia, dove si aspetta la ricostruzione. Sette anni fa il terremoto nel Lazio, sei anni fa sull'isola, e ci sono ancora ritardi. Questo è quanto scrive oggi Avvenire. Il Fatto Quotidiano si occupa di spese militari, armi al 2% del prodotto interno lordo. Scholz no, Meloni sì. Dunque, Berlino si tira indietro, Roma sull'attenti. La Germania rinvia di 5 anni l'impegno con la Nato. Meloni, invece, giura fedeltà a Kiev, ma teme i sondaggi. Chiudiamo anche il Fatto Quotidiano per passare al libero. I comunisti fan così la vendetta di Putin. Cade un jet e la TV di Mosca annuncia morti Prigoshin e il suo vice. La Wagner e Kiev abbattuti dallo zar. È l'ora di nuove epurazioni. Intanto vi segnalo anche l'editoriale di Vittorio Feltri. Auto elettrica come i banchi a rotelle. Una costosa ecomania. Il manifesto, in alto la notizia dell'aereo abbattuto di Prigoshin. Intanto si parla anche di sanità. Bandiera bianca. I pronto soccorso collassano la testimonianza dei medici. Costretti a turni anche di 24 ore. Mancano 30.000 dottori e 300.000 infermieri. Ma il governo, nella legge di bilancio, non ha un euro per la sanità. Il messaggero, In alto, colpito il jet della Wagner, Prigoshin è morto, ucciso il capo dei mercenari che si era ribellato a Putin. Identificato il corpo, Biden dice, non sono sorpreso. Una manovra per le famiglie. Il premier Meloni detta le priorità ai suoi. Fermare il calo demografico. Pronti un miliardo e mezzo di euro da investire in bonus per il secondo figlio. Mutui agevolati e affiancamento alle neomamme. Dal messaggero, adesso al secolo d'Italia, il decreto sulle ONG funziona, line provoca, Meloni la fulmina. Abbiamo visto di questa polemica politica nelle ultime ore. Andiamo a fondo pagina. Immigrazione, parla il governatore Zaia. Ottimo lavoro diplomatico della Meloni. questo sul secolo d'Italia di oggi. Proseguiamo con il sole 24 ore. Fringe benefit almeno a mille euro. Si va verso la manovra 2024. L'obiettivo è innalzare la soglia di esenzione fiscale per i lavoratori senza figli. Potrà salire a 3.000 euro la quota di deducibilità per il lavoro domestico. Lo sport sulla gazzetta. Qui c'è questa notizia. Mancio fuga d'oro. Ecco perché il CT ha lasciato la nazionale. E la gazzetta scrive così. CT da Dabbia, 90 milioni fino al 2026. Accordo fatto, atteso l'annuncio, con Mancini, il suo staff storico. Altro che problemi personali, aggiunge la gazzetta. Pure Verratti e Salah verso i sauditi. In alto invece il pressing di Pioli. Vuole il vicegiru Milan. Dammi il 9. ETT che ha scelto i rossoneri. Si tratta con il Paris Saint Germain per il prestito. Torniamo sull'informazione regionale con il quotidiano abruzzese. Il centro usura casi raddoppiati dopo il Covid. La notizia riguarda Pescara. Arriva da Pescara. Allarme dell'Associazione Codici. Sono a rischio le piccole aziende. Fotonotizia. Le grotte di stiffe da record. Sono le più lunghe d'Abruzzo. C'è stata un'esplorazione italo-francese e nuove scoperte. Più in basso. Distributore senza prezzi. Maximulta. Nuovi controlli della Guardia di Finanza sulle tariffe del carburante. Sanzionato. Un distributore a spoltore. Restiamo sul centro. Ma andiamo a vedere la prima pagina dell'area del Terramano. Provincia. Partono 14 assunzioni. Sono stati banditi. 5 concorsi. Ma il sindacato minaccia ricorsi al Tribunale amministrativo regionale. E ancora. Muore 11 giorni dopo l'incidente. Pineto. La vittima aveva 62 anni. La procura dispone l'autopsia. Indagata. L'automobilista. Ora. Vediamo. L'area di Chieti. Lanciano e Vasto. Migranti. Ora. Emergency. Accusa. Siamo all'Ortona. Sbarcati in 40. La ONG dice. Disumano. Allontanarci dal Mediterraneo. E qui vediamo una foto nel momento dello sbarco. Più in basso. Muore in auto mentre va al lavoro. La tragedia a San Salvo. Infarto per un collaboratore scolastico di 63 anni. Viveva a Vasto. Più in basso. A Chieti. L'evento alla D'Annunzio. All'università. La notte europea dei ricercatori. Mille culture insieme. E atteso. Il fisico. Schettini. E ancora sul centro. Siamo adesso all'Aquila. Dove c'è in primo piano questa notizia. La perdonanza illumina l'Aquila via gli eventi nel segno della pace. Albano e gli altri big intanto ricordano Toto Cutugno. Vediamo più in basso quest'altro titolo. Morta di Legionella. Quattro avvisi di garanzia. La notizia riguarda Sulmona. Il batterio era nella doccia. Nei guai. Personale Ater. E di una ditta privata. Il messaggero. Edizione abruzzese. Movida. Violenta. Tre feriti. L'Aquila. Tornano in azione. Le baby gang. Rissa durante la notte. Aggressori in fuga. Altro scontro tra bande al parco del castello. Guerra. Messo tra virgolette. Per il controllo dello spaccio. Anche qui, perdonanza. L'accensione, dunque, nella fiaccola. L'Aquila illuminata dal fuoco della pace. Di taglio centrale schiacciato dal carico. Primi avvisi di garanzia. L'Aquila inchiesta sulla morte di Stupario Viorel. La manovra non sarebbe avvenuta in sicurezza. Bene, come sempre con il messaggero d'Abruzzo. Termina il primo appuntamento con la nostra informazione. che torna alle 14 con la seconda edizione del TG. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.